Sono 3.346.816 le dosi di vaccino anti-covid somministrate sino ad oggi in Puglia. Le dosi sono il 90,4% di quelle consegnate dal Commissario Nazionale per l'Emergenza. Nel dettaglio, l'Asla di Bari ha raggiunto il record con ben 1.092.000 sieri inoculati dall'inizio della campagna vaccinale. Un obiettivo raggiunto anche grazie al risultato delle ultime 24 ore. Le somministrazioni in un solo giorno sono state ben 17.240. L'azienda ha messo in campo per arrivare a questi numeri circa 2.000 unità di personale, tra medici, assistenti sanitari e infermieri impegnati nelle operazioni vaccinali, amministrativi e tecnici dedicate all'inserimento dei dati, oltre al sostegno di tanti volontari e della protezione civile. Sono poi oltre 1.000 i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che hanno vaccinato in studio o a domicilio o nelle sedi della Asla. Più di 40 i centri vaccinali di popolazione e territoriali sono stati inseriti nella rete coordinata dal nucleo operativo aziendale Vaccini. A questi si aggiungono poi i 300 punti di somministrazione complessivi in cui sono state effettuate le iniezioni. Ospedali, distretti, ambulatori, residenze sanitarie, sociosanitarie per anziani e disabili, centri di riabilitazione, comunità alloggio, casa e famiglia di cura, centri di urni e riabilitazione, poi caserme, istituti di pena, scuole e hub interaziendali. E' un traguardo importante che dà lustro all'impegno della sanità pubblica, ha commentato il direttore generale dell'Asla di Bari Antonio Sanguedolce. Sempre sul fronte dei numeri nella Asla, Bt nelle ultime 24 ore sono state somministrate 4.282 dosi di vaccino. In particolare ad Andrea sono stati inoculati 1.283 vaccini, i vaccinati di Canosa sono stati 700, quelli di Barletta 798. I dati Gimbe riferiscono che il 56,2% dei pugliesi ha ricevuto la prima dose, solo Molise e Lombardia hanno fatto meglio. Il 29,3% invece ha completato il ciclo vaccinale. Gli over 60 non ancora vaccinati sono pari all'8,7%. La percentuale in ultimo di over 80 immunizzati è dell'88,7%. La fascia 70-79 anni ha completato il ciclo vaccinale al 54,9% e tra i 60-69 anni il 46,7%.